Ciao! In questo momento, anche se guardando dietro di me non sembra, sono su un aereo per l'Uganda, ecco perché non sono lì con voi. Però volevo dire grazie mille. Grazie mille perché da piccola non dicevo mai niente. Grazie mille perché quando ho detto ai miei bambini che avevo vinto, loro mi hanno chiesto se per caso il premio era una katana giapponese e ovviamente ho detto certo amori e adesso è un problema vostro. Grazie perché non sapevo nulla e le sorprese che uno non si aspetta sono le migliori. Grazie perché mi dispiace parecchio non essere lì con voi ma al mio posto a ritirare il premio c'è Carlo Gabardini che è l'emissario valletto più figo della blogo ma soprattutto della twittosfera e di questo sono molto orgogliosa. Insomma, grazie mille. Ciao!